Un facsimile simile a questo era contenuto nella busta, qui era scritto stampatello la frase che sapete muo vedi ma fornisci una cosa di questo tipo qua, quassù c'era una croce sul mio nome. Pino Di Polito, avvocato grillino, candidato alla Camera nel Collegio Uniluminale di Catanzaro, racconta così quanto accaduto gli stamattina la telefonata da parte dei carabinieri mentre era in tribunale, poi la comunicazione del fatto che al centro meccanografico postale di Lamezia era stata intercettata una busta con un proiettile avvolto in un suo facsimile elettorale con tanto di messaggio in dialetto dal significato inequivocabile. Vedi di smetterla. Per Di Polito è stata disposta a una tutela all'abitazione ma anche nel suo studio legale, nel cuore del centro storico di Lamezia, nei locali in cui è stato collocato il centro di soccorso Antiequitalia, gestito proprio dei 5 Stelle. Quando si alzano i toni, quando i toni superano quello che dovrebbe essere la normale dialettica politica, poi come si dice la mamma dei cretini è sempre incinta, quindi c'è qualcuno che si può sentire autorizzato a fare un gesto di questo tipo. Tiziana Bagnato per la CNews24.